Ciao, sono Fabio, operatore del laboratorio occupazionale protetto. Noi siamo aperti in questo tempo di emergenza. Continuiamo il nostro servizio con molte, molte precauzioni, con modalità nuove, diverse. Abbiamo fatto due turni di accesso per gli utenti giornalieri, quindi di media ogni giorno abbiamo 12-13 utenti. Abbiamo impostato misure di prevenzione, gli utenti entrano in laboratorio al mattino due alla volta, li accompagniamo in bagno, si lavano le mani, utilizziamo i prodotti appositi anche per disinfettarsi le mani e poi hanno accesso alle postazioni dove poi svolgono le attività. Abbiamo riorganizzato anche i turni in mensa, nel senso che si mangia 7 alla volta, quindi una persona per tavolo. Facciamo due o tre turni a seconda di quante persone, comprese anche gli operatori, ci sono in struttura. Tutto sta procedendo in maniera molto tranquilla e oserei dire anche in maniera serena. Gli utenti, anche grazie a queste misure e all'impegno che tutti gli operatori stanno mettendo per attuare queste misure, probabilmente hanno colto anche la gravità di questo tempo che stiamo vivendo. Noi operatori abbiamo proprio capito, ci hanno fatto capire gli utenti che queste misure che stiamo attuando sono stati utili anche per loro. Loro hanno a disposizione tutti i dispositivi di protezione necessari, possono anche chiederci, comunque ci sono distribuiti nei vari punti del laboratorio. Il clima tra gli utenti è un buon clima, è un clima sereno, diciamo che con numeri così ridotti si riesce anche un po' a parlare con più tranquillità, con più serenità, ad allacciare anche relazioni più serene. Io sono tranquillo, dopo la paura iniziale dei primi giorni, più che altro perché c'era bisogno proprio di recepire indicazioni, informazioni, gli stessi dispositivi. Adesso siamo a regime, io sono sereno, siamo un gruppo di operatori molto sereni, molto coesi. Ci organizziamo in turni per fare le varie anche interventi di sanificazione. Gli utenti quando escono al pomeriggio, praticamente un operatore passa tutte le postazioni con i prodotti adatti per la sanificazione, quindi tutti gli attrezzi, tutta la strumentazione, tutto viene sanificato, le porte, le maniglie, tutto quello per quanto possibile che si può fare e viene fatto, quindi anche questo sicuramente in noi porta anche un clima di serenità. Perlomeno stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per eliminare o abbassare il più possibile il rischio di contrarre questo virus. Gli aspetti positivi sono quelli appunto che c'è un clima qua in laboratorio sereno sia tra noi operatori che tra noi operatori gli utenti e gli utenti stessi. Hanno colto appunto i messaggi che abbiamo dato anche di fare attenzione sia all'interno della struttura ma anche nello spostamento che ognuno di loro fa per andare a casa insomma e quindi sì ci sono persone che vengono qua volentieri e hanno proprio espresso il desiderio almeno un giorno, due giorni a settimana di poter venire perché almeno qua il tempo passa e probabilmente la paura quando è condivisa in un gruppo la paura fa meno paura e quindi sì nonostante tutto riteniamo sia anche per noi un momento di crescita di imparare anche nuovi metodi di lavorare e andiamo avanti così insomma. Ciao e auguri a tutti!